Salve, sono Matteo Franchi, Prado Genius della Bilindelli Auto e oggi vi illustrerò come funziona il Parking Assistant. Lasciando andare la macchina lungo una fila di auto parcheggiate, tenendosi massimo a un metro e mezzo di distanza dalle stesse e massimo a 35 chilometri orari, andiamo ad attivare la funzione di ricerca del parcheggio e l'auto comincerà la ricerca degli spazi che siano sufficienti per fare manovra. Una volta individuata l'area giusta mi darà una segnalazione a video e compirà la manovra in maniera del tutto automatica. Altra funzione del Parking Assistant è il sistema di assistenza alla retromarcia. Durante la retromarcia in avanti l'auto memorizza gli ultimi 50 metri ed è in grado di ripercorrerli all'indietro. Per attivare la funzione basta inserire la retromarcia e attivare l'apposito comando. Come vedete a video questa è la distanza di percorso memorizzata. Importante, la frenata deve essere sempre gestita dal guidatore. L'auto è in grado solamente di andare a gire sullo sterzo. Come vedete la distanza cara infatti vi mostra quanti sono i metri memorizzati i residui che vi restano da percorrere. Ed eccola finita. Abbiamo visto insieme le funzionalità del Parking Assistant, grazie e al prossimo video.